Adesso ripristinerei l'ordine previsto e terrei l'ordine previsto in agenda, per cui darei la parola a Michele Ficara di Asso Digitale, che si deve autoinquadrare, sta facendo... quanti utenti abbiamo adesso? 125. 25. No, anche perché ne abbiamo una quarantina qui fuori, che stanno guardando il convegno in diretta con un pc che viene retto da una persona. Esatto, uno che vale 25. Stai impiegando male il tuo tempo. Quanti minuti ho? Va bene. Allora sarò brevissimo. Perché sono qua? Perché mi interessa questo argomento. Perché forse c'è qualcosa che continua a sfuggire un po' l'attenzione, magari anche nostra, ma un po' di tutti. Mi sono parlato un po' di pubblicazioni, tra cui una qui dell'amico di Univideo. E continuo a leggere cose dove, scusate, vedo che... ecco, questo mi ha colpito particolarmente. Facebook, una vetrina per i mister Nessuno. Altri articoli che dicono che Facebook è il luogo dei mafiosi, dove ci sono le pagine di Rina. Vedo che... non so... tutti che ne parlano male. Poi mi leggo invece il mondo. C'è io qua. Arriva la Nettv. Cioè, che cosa sta succedendo? Cioè, alla fine senza stare a fare i buoni e i cattivi. Cioè, chi ne parla bene, chi ne parla male. Ma tutti, tutti, si stanno accorgendo che il... il sociale, il network, non è più un giochino per pochi internet addicted, cioè per poche persone che fanno questo di mestiere, ma sta diventando un fenomeno sociale. Una cosa che ho detto l'altro giorno a Sky TG24 è che mi ha colpito che la gente, durante le festività natalizie, andava nei centri commerciali a chiedere dei computer che si collegassero a Facebook, non dei computer che si collegassero a internet. Persone normali, persone che non gliene frega niente delle nostre menate sui diritti, sul copyright. Cioè, gente che ha voglia di usare il digitale. Oggi il digitale è un fenomeno sociale. Per come la vedo io, deve essere un diritto garantito a livello costituzionale e che diventi parte fondante della nostra Costituzione. E non mi interessa citare gli americani, Obama che dice, metterò tutto su Inter, eccetera, scusate, queste sono un po' delle stupidate. Cioè, quello che interessa è capire che qui fuori abbiamo 40 persone che vogliono entrare, ma ce ne sono 40 milioni che hanno deciso che nel digitale ci vogliono stare. A modo loro, chi va su Facebook, chi ci lavora, chi trova l'anima gemella, chi fa politica, chi discute, chi fa... Ecco, credo che il punto fondante di cui poi possiamo trarre tutti gli aspetti di discussione possibili e immaginabili è capire questo. Lo devono capire i politici, lo devono capire i giornalisti, lo devono capire i televisivi, lo devono capire tutte quelle persone che, volenti o nolenti, anche se loro ignorano internet, internet non ignora più loro. Oggi c'è una partecipazione a livello politico e a livello sociale garantita dal digitale che è impressionante ed è il vero fenomeno del 2000, cioè degli anni 2000, da qui penso negli prossimi cent'anni. Non è tanto la meraviglia tecnologica il fatto che c'è un computer che pesa mezzo chilo piuttosto che i cinque di una volta, è il fatto che delle persone in Italia, che tipicamente siamo un po' l'ombelico del mondo, spontaneamente, volontaneamente vogliono poter usufruire del digitale, navigare, informarsi, divertirsi, conoscere, guardare, intrattenersi, trovare amicizie e passare il proprio tempo. Ecco, questa è una volontà che nasce dal basso, non è né imposta dall'alto, né imposta da Youtube, né da Google, anzi, sono persone che riescono anche a decidere e a voler pensare con la propria testa e questo forse fa un po' riflettere. Stefano, io spero di aver usato bene i miei quattro minuti. Bravissimo, hai anche anticipato, ti ringrazio.